ciao come ti chiami ciao mi chiamo riccardo ciao riccardo qual è il tuo soprannome in toscana sono diventato ricca però generalmente le persone mi chiamavano ricky rick qualche anno fa avevo anche qualcuno che mi chiamava irlandese bisogna dire che è stato il più originale quanti anni hai ho 30 anni qual è la tua professione a seconda delle prospettive che riguardano le mie attività potrete vedermi come noi youtuber squadrina pure come un disoccupato dimmi tre aggettivi per definirti purtroppo ansioso purtroppo empatico purtroppo sensibile qual è il tuo punto debole il futuro mi terrorizza se vincessi i 10 milioni di euro cosa compreresti come prima cosa la prima ma non l'unica sarebbe una casa in una grande città qual è la parolaccia che dici più spesso è emozionante per youtube questa penso cazzo comunque qual è il giorno più bello della tua vita purtroppo devo dire quello che deve ancora venire e quello più brutto credo che finora sia stato quello in cui figurativamente hanno cercato di togliermi alcune libertà personali ti hanno mai picchiato sì certo mio padre dimmi una cosa che ti rende felice mi rendono felice le piccole cose messaggio ciao come stai ti ho pezzato mi dai il tuo indirizzo che vorrei mandarti una cartolina qual è la prima cosa che fai al mattino a volte mi tenta a guardare il cellulare sto cercando di guarire magari facendo colazione e l'ultima cosa che fai la sera direi spegnere il computer si spegnere il computer cosa cambieresti del tuo corpo mi piace abbastanza ma non mi sarebbero dispiaciuti 10 centimetri in più di altezza a cosa stavate pensando maliziosi qual è una persona che stimi kian rives e i miei amici è un coglione invece uno solo i falsi i prepotenti i narcisisti di qualunque identità di genere e orientamento sessuale raccontami un sogno ricorrente ho sognato sovente di non aver terminato la scuola soprattutto quella superiore poi compiti e mi svegliavo con l'ansia racconta una figura di merda che hai fatto tante fatemi pensare ecco quando andavo in chiesa da bambino c'era un tipo che assomigliava a paolo fox e siccome era sposato con una donna molto giovane anche lui era molto giovane e io ero un bambino quindi a volte si sa ai bambini piace prendere in giro mi mandarono questa donna e io tutto tranquillo è il ragazzo che stava con te è uguale a paolo fox e il sacerdote mi fa ma quello è il marito hai mai rubato no mai sei religioso non mi piace definirmi religioso preferisco spirituale comunque non cristiano e non cattolico cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada nulla a parte augurargli che non lo metta sotto qualche macchina imbecille che animale vorresti essere indistintamente cane o gatto cos'è la cosa che ti fa più paura il futuro morire no soffrire e la solitudine si morire un passaggio naturale cosa hai pensato l'11 settembre 2001 avevo solo 11 anni pensai molto poco la portata di ciò che è successo però vi racconto una cosa buffa dopo una settimana la nostra insegnante di storia ci chiese cosa fosse successo è un bambino con estrema convinzione risposto usando un termine gergale dialettale hanno sgarrato le torri gemelle inutile dire la reazione di tutta la classe qual è il tuo film preferito la saga di harry potter ma con una particolare preferenza al primo al terzo e al quinto film più basta guardare il cielo anche se piango e mio dio come si chiamava stelle sulla terra nella del cinema bollywood hanno qual è il tuo piatto preferito in estate pasta con le lenticchie adoro no usate al contrario in inverno pasta con le lenticchie e in estate la pasta fredda con zafferano peperoni sviscero e olivier di snocciolato ma al basso è un piatto che ti disgusta le lumache meglio grassi o magri meglio in salute abbasso gli stereotipi cosa ti infastidisce più al mondo mi infastidiscono quei tipi di coglioni di qualche domanda più sopra hai mai odiato qualcuno tuttora evito di nominare persone che odio per non generarne altro grazie per questa intervista riccardo ciao grazie a te per avermi intervistato ciao a tutti